sulle spiagge delle galapagos altre due creature si abbandonano a romantiche fusioni sono su le piedi azzurri il colore delle zampe cattura lo sguardo e le signore per fare colpo bastano pochi passi primo esibire le scarpette azzurre secondo chinare il capo terzo farle un regalino e infine abbagliarla con nuovi lampi d'azzurro se ancora non è sufficiente bisogna sfoderare l'arma segreta ora sì che è cotta a puntino la femmina cade ai suoi piedi e si unisce alla danza grazie